Non vedo che in Ucraina, io non parlo italiano, scusa, ma tanto emozia, in Ucraina sono normale. Paura, tanto paura, paura per tutti. Max, è spento. Signora, come si chiama lei? Mi chiama Giulia. Giulia? Sì. E questa è sua figlia? Questa è il mio bambino, Kira è Tania. Kira è Tania? Sì. Di che età? Quanti anni? Quanti anni? Sette e dieci. Sette e dieci. Possiamo richiedere che ha lasciato in Ucraina? Che cosa ha lasciato? Suo marito è rimasto in Ucraina? Tuo marito, tuo marito? Sì, mio marito è a cosa? A combattere? No, ma dopo io non posso. Ci vuole dire quello che ha detto prima che non c'era? All'inizio, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Sì. Ok. Ok. Questa è una vita, eh? Questa è una vita. Emozione. Emozione. Io ho paura. Io ho tanto paura. Questo non è normale. che bambini paura quando bambac, quando notte bambac, 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 dopo sirena, dopo solo paura, tutti paura, questo non è normale, non è normale quando tutti bambini che chimioterapia, quando sirena, bunker, questo non è normale per tutti, non è normale per bambini, non è normale per tutti. Signora, da quale città viene? Sì, ma, a casa mio, non, a casa mio, mamma, papà, mio marito, matino io, screvo, mio, моim друзьям, non, sorella mio, sorella io, screvo, ti sei, ti sei, ti sei, tu sei, tutto è normale, ma, tutto è non è normale, io parlo in russi, in ucraina. Ci hanno detto che ci sono venuti dal mondo, ci hanno detto che abbiamo un'operazione mondiale, ma miei amici sono in palla, miei amici presentano fotografi di freddo, mie amici presentano fotografi di freddo, di freddo, miei amici presentano fotografi di freddo, miei amici presentano fotografi di freddo,